Modalità estiva, acqua calda. Non importa dove vi condurrà il vostro prossimo viaggio, la modalità estiva del Dual Top vi garantirà l'acqua calda necessaria. E ecco come avviare la modalità di riscaldamento. Accertatevi che la pompa dell'acqua sia accesa. Controllate inoltre che nel boiler sia presente dell'acqua. A tale fine, impostate il rubinetto dell'acqua sul caldo ed apritelo fino a che dallo stesso esca dell'acqua. Ora, sullo strumento di controllo, selezionate la modalità estiva. Avete la possibilità di scegliere tra 40 gradi, se avete bisogno di poca acqua calda, o 70 gradi, se amate una doccia più lunga. In base alla temperatura esterna e dalla temperatura dell'acqua selezionata, sarà necessario un tempo variabile tra 20 e 60 minuti. Il nostro consiglio per un corretto utilizzo, accendete il Dual Top con sufficiente anticipo per evitare di dover attendere prima della doccia. Il processo di funzionamento del Dual Top inizia immediatamente a riscaldare l'acqua contenuta nel boiler fino a 40 o 70 gradi e la manterrà a livello selezionato. Fintanto che la modalità estiva sarà attivata, avrete quindi sempre a disposizione acqua alla temperatura desiderata.